Ciao a tutti, allora dopo un mese finalmente vi posso parlare della mia esperienza appena trascorsa con questi integratori qua Vi devo raccontare una piccola storia, perché io ho preso questi prodotti tramite Chiara Chiara è la mia amica che conosco da quasi 10 anni ormai La conosco da ben prima che iniziasse a usare questi prodotti, da ben prima che si operasse Insomma, quindi io mi fido ciecamente di Chiara, quando ho sentito parlare di questi prodotti e mi sono incuriosita Come penso molti di voi, vado subito a fare delle ricerche, perché voi sapete, anzi apriamo fitline recensioni negative Per cercare il pelo nell'uovo Sinceramente dopo un po' ho smesso, perché non sono neanche stata più lì a cercare Perché appunto io di Chiara mi fido, la conosco e al di là di quello che esce dalla sua bocca Io mi fido di quello che vedo, cioè ho visto in Chiara dei veri cambiamenti E mi ricordo che mi rimase impressa una delle prime storie che lei fece su questi prodotti Ancora non era neanche distributrice ovviamente Sulla cacca Mi ricordo che mi rimase impressa sta cosa perché lei diceva appunto che aveva avuto subito dei benefici Che riusciva ad andare in bagno In questo video si parlerà di cacca, quindi non mi impressionate Però perché a me è rimasta impressa? Perché ovviamente è una cosa che colpisce anche me Ha colpito anche me Aveva smesso per un po' nel senso che stava un po' meglio E ultimamente invece era tornato a essere un problema presente E infatti questa è stata una di quelle cose che mi ha fatto riaccendere la curiosità di provarli Anche se in realtà a me Chiara l'aveva fatti provare questi prodotti Però come era andata la cosa? In pratica lei è venuta qui due anni fa da me Ha dormito a casa mia e siamo andate insieme al Cosmoprof Aveva portato il Power Cocktail, mi ricordo Mi ha fatto provare la bustina, questa qua Che si scioglie nell'acqua e diventa una bevanda, un succo di frutta buonissimo tra l'altro A me il sapore di questo è quello che piace più di tutti al momento Tra le cose che ho provato Però chiaramente un giorno non potevo aspettarmi di vedere qualcosa In realtà qualcuno lo vede anche al primo giorno Tipo lei sì, io ci ho messo due o tre giorni E la sera invece il Restorate che è questo qua Poi in realtà lei mi ha regalato un barattolo di Restorate Perché esiste sia in bustina che in barattolo Me l'ha regalato, io l'ho provato qualche volta Una sera sì, quattro no e poi l'ho fatto scadere Quindi è finita lì Però in realtà lei mi aveva acceso un campanellino Mi aveva, come si dice, acceso una lampadina Quando mi ha fatto provare questo Che è l'Activize Perché eravamo in fiera E ce l'ha fatto provare a me, Eleonora E anche un altro ragazzo che era con noi Di cui adesso mi sfugge il nome Si chiama Ready Steady Makeup Ma mi ricordo il suo nome adesso in questo momento E mi aveva colpito il fatto che tutti e quattro abbiamo avuto quattro reazioni diverse Con questo prodotto Questo qua è il fiore all'occhiello di Fitline Perché è quella cosa che subito sentite Cioè quello che immediatamente di solito vi dà una carica subito, immediata Tipo il caffè ma molto meglio del caffè Ora io non sto dicendo che questo sostituisca il caffè Il caffè è proprio un rituale Ed è anche un sapore che a molti piace A me pure piace Però questo ecco è un qualcosa che vi dà subito un'energia immediata E questo mi aveva, avendo avuto un effetto visibile da subito Mi aveva incuriosito Però poi sono stata là ad osservarle Io sono tre anni che guardo le storie di Chiara Tutte, praticamente io so quasi tutto dei prodotti tramite lei Solo per averle ascoltata Però cosa mi frenava? Ovviamente mi frenava il prezzo Anche se qua ci sarebbe da discutere Perché se io vado a prendere tutti gli integratori che compro singolarmente E cambio Perché per vedere se c'è qualcosa che mi dà più soddisfazione Se non arriviamo a quella cifra poco ci manca Quindi tutto ciò è sempre molto relativo Allora questa è l'ornella del futuro che vi sta parlando Mentre monta il video mi sono accorta di aver dimenticato un'informazione fondamentale Perché quando decidete di provare i prodotti Una cosa che è fighissima E poi in realtà è anche una delle cose che mi ha convinto a provare Vi dà la garanzia soddisfatto e rimborsati Quindi voi dopo aver provato i prodotti Quindi anche finendo tutto il set Per dire il set come qualsiasi altro prodotto Voi se non siete contenti del risultato Voi potete chiedere il rimborso totale Quindi semplicemente rispedite le confezioni Anche vuote e l'azienda vi rimborsa fino all'ultimo centesimo Io penso che questa sia Cioè voi dovete pensare questo Se l'azienda non fosse sicura dei prodotti Tranne chi magari per un X motivo O perché non li usa bene la maggior parte delle volte Cioè non li usa con costanza Sarebbe già andata in fallimento direi Con questa cosa Quindi ecco sappiate questa cosa Mi ero totalmente dimenticata O meglio l'avevo detta in un'altra clip Che avevo girato E poi in realtà siccome l'ho rifatto da capo direttamente Il video mi sono dimenticata Comunque visto che ultimamente Stavo avendo delle difficoltà di nuovo Ad andare in bagno E soprattutto E questa cosa mi faceva sentire Cioè io vedevo che Avevo perso comunque un bel po' di chili Perché attualmente sono a meno 15 chili Anche poco più Però sempre comunque con la pancia gonfia Perché ragazzi Se non sono andati in bagno regolarmente Quello succede Sta cosa proprio mi sta qua Quindi mi decido Ne parlo anche con una persona Che in questo momento A me molto vicina Incuriosisco anche lui E quindi decidiamo di comprare il set Quindi comprare questi due L'Optimal Tour Set E dividercelo a metà Quindi 15 giorni uno E 15 giorni l'altro Cioè ci dividiamo le bustine Io già dopo una settimana Già dopo 3-4 giorni In realtà ero tipo Estasiata dal fatto che Andassi in bagno Però sapete Magari Giustamente può essere anche fisiologico E casuale Che io ci sia andata Dopo la seconda Barra terza bustina In maniera un po' più regolare Quando in realtà Vedevo che erano passati 7-8 giorni E invece la cosa Continuava a essere così E non solo quella Immediatamente faccio un secondo ordine Nel secondo ordine Ci piazzo anche due di questi Che inizialmente Non avevo preso Perché all'interno di questo C'è già un misurino di questo E la svolta ulteriore è venuta Quando ho comprato anche lui Perché già la mattina Comunque mi piaceva l'effetto Che avevo dal power cocktail Quindi andare in bagno Avere un po' più di energia in più Ma quando ho preso lui Io la mattina Soprattutto nei giorni in cui Decido di allenarmi Ne aggiungo altri due misurini E vi giuro Che vado con un treno Cioè È fantastico Io adesso Attenzione Perché io Non dirò mai Non uscirà mai dalla mia bocca Così non sono prodotti dimagranti Nella maniera più assoluta Il fatto che io mi sia sbloccata Sia nel discorso di andare in bagno Ovviamente Ma anche nell'energia Questo mi ha cambiato Anche il modo di allenarmi Perché io prima Sì mi allenavo Ma magari facevo Una o due volte alla settimana Adesso arrivo anche a 3-4 Anzi Cioè Lo voglio fare Perché comunque Quella energia che ho la mattina Soprattutto se anche il giorno So anche il giorno Dello shampoo Mi sembra uno spreco Non farmi almeno Quella mezz'ora di tappeto elastico Tappi rullano Quello che è Quindi Non è questo Che mi ha fatto dimagrire E io poi Dopo il power cocktail Mi vado a scofanare Un barattolo di nutella O che altro Ne so Semplicemente Il fatto di Rendere la vita Un pochino più Più dinamica Cioè Avere voglia di fare cose Questo Ci tengo a sottolinearlo Per quanto riguarda Il resto Non l'ho apprezzato da subito Devo dire la verità Perché Dovevo trovare la mia quadra Nel senso Dovevo capire A che ora assumerlo Più che a che ora Quando Io adesso ho trovato il mio Però vi dico È veramente soggettivo Perché Io ho capito Che lo devo assumere Almeno un'ora dopo Aver finito di cenare E non troppo prima Di andare A dormire Quindi Dopo aver preso il rest Rate Magari Cerco di Stare almeno Un'altra oretta Sveglia Non in orizzontale Per lo meno Perché comunque È una cosa che bevi E poi ce l'hai nello stomaco Poi ti verrà da far pipì Sicuro E quindi Ecco Aspetto fondamentalmente Di andare a fare la pipì E poi vado a letto Fondamentalmente Sul discorso Del Del rest Allora Questo che serve Questo fondamentalmente Vi serve Per Come dire Mettere a riposo Il corpo Mi verrebbe da dire Dalla giornata Perché magari avete fatto Varie cose Vi aiuta un po' A digerire A digestivo Perché ha questo sapore Agrumato In realtà io Al primo giro Avevo ordinato Questo Infatti ne ho ancora Qualche bustina Perché non mi fa impazzire Il sapore E fichi È molto dolce Adesso prendo sempre Questo Questo qua Questo giallo Perché A parte il gusto Più buono È più dissetante Vi dà proprio L'idea Come se vi beveste Una Una Come si chiama Non mi viene il nome Una lemon soda Cioè non so come dirvi Ecco Per farvi capire Che vi dà quella sensazione Di digestione Sul fatto del sonno migliorato Io non ho notato Grandi differenze Semplicemente perché Stavo assumendo Da prima Del magnesio E il magnesio Mi dava questo Mi aveva dato questo Risultato Siccome C'è anche qui All'interno Nel Nel restaurant È una delle principali cose Che contiene Ma non solo Allora ho deciso Di interrompere il magnesio Perché ovviamente C'è anche qua Però questo Diciamo È uno dei benefici Che di solito Si percepisce Del restaurant È quello Di avere un sonno Più riposato Che attenzione Non è un sonnifero Cioè non è che Ve lo prendete E vi fa addormentare Non è melatonina Non è neanche Cos'è il triptofano Che c'è all'interno Delle pastiglie Della guvi Quello è veramente Un sonnifero Solo che Solo che È un po' pesante Cioè io vi giuro Che Quando ho provato Quell'integratore lì Si mi faceva addormentare Ma io l'indomani Mi sentivo pesante C'è una sensazione Che non mi piace Così non mi piace La sensazione Di qualcosa Che mi faccia addormentare Ecco È quella la cosa Che finché riesco Per favore Preferisco evitare Ho sentito veramente Dei benefici tangibili Che mi hanno Esaltato tantissimo Infatti poi ho fatto Un ulteriore ordine E ho ripreso Vabbè la scorta Del set ovviamente Da lunedì Voglio iniziare a provare Questo Che è il D-Drink È il Beauty Questo è un integratore Specifico per pelle Capelli Insomma quindi Ovviamente Per ovvi motivi Visto che parliamo di questo In questo canale Ero curiosa E questo qua Che in teoria Serve un po' Per drenare E pulire un po' Il corpo Ora io non ho problemi Di Come sapete Di Di tensione idrica Di questo tipo qua Ma proprio per questo Sono curiosa di vedere L'effetto che fa Anche perché questo Aveva un prezzo C'è anche un prezzo Abbordabile Quindi Onestamente Voglio provarlo Così come ho provato Le bende Pur non soffrendo Di Di tensione idrica Però Almeno vi posso dare Anche la mia Testimonianza Ho preso anche Dei prodotti Di beauty Però di questi Preferisco parlarvi Ho preso Detergente Non mi è fatto impazzire Ma lo proveremo insieme La maschera peeling Che mi piace un casino La mousse Già ve l'avevo fatto vedere Le maschere Queste qua Però Vi dico Io per quello Voglio fare un video A parte In cui Provo con voi Le maschere Per la prima volta E vi faccio anche Un escurso Su degli altri prodotti Questo qua Invece Mi è stato dato in omaggio Proprio perché ho attivato Il codice Io ho deciso di attivare Il codice Per il semplice motivo Per cui sono affiliata Anche ad amazon Al look fantastic Eccetera E perché È una cosa che Comunque mi fa Comunque rimanere libera Di qualsiasi legame Perché io Semplicemente Vi posso consigliare Le cose che A me sono piaciute E di cui vi riporto La mia testimonianza La differenza Però Con le altre Affiliazioni Anche se Le ragazze del gruppo Telegram Sanno che io Quando posso Se c'è qualche Difficoltà Che ne sono Avuto dei problemi Con gli ordini Eccetera Io le aiuto Ecco Per quello che posso fare In questo caso invece Per Fitline La vendita funziona Un po' diversamente Io vi devo dare il link Per acquistarli Ma io questo link Non ve lo lascio qua sotto Voi qui sotto Troverete Due contatti In realtà Di contatti C'è la mia email C'è il direct Su Instagram Che vi sconsiglio Perché io odio Instagram Cioè odio i direct Nel senso che Preferisco da pc Che vi posso rispondere In maniera più immediata Ma in realtà Qui sotto Trovate Un mio contatto Whatsapp Mi raccomando Quel contatto Vale solo per Per questo Preferisco Tenerlo separato E anche Un contatto telegram Quindi vedete voi Se preferite Perché magari Non volete far vedere Il vostro numero di telefono Trovate il mio Contatto telegram Mi trovate lì Oppure via email Insomma come Preferite Perché vi devo dare Io il link Perché L'acquisto Di questi prodotti Prevede che voi Siate anche Seguite da una persona A me questa cosa Piace tantissimo Perché Perché comunque In questo caso Per esempio Io sto adesso Già seguendo Dei workshop Vi fanno anche Una formazione Che vi permette Di consigliare Al meglio Le persone Su cosa acquistare Ma soprattutto E non meno importante Cosa aspettarsi Perché se qualcuno Viene da voi E vi vende Questi qua Come prodotti Dimagranti E' un criminale E' un criminale Cioè assolutamente Non esiste Non sono prodotti Dimagranti Perché poi Voi li comprate Per quello Ma non mi ha fatto Niente E perché magari Contemporaneamente Facevate ben altro E comunque Non è lo scopo Di quei prodotti Là E poi a me piace Tantissimo Il fatto di Poter avere Questa formazione Specifica Perché poi Sapete Il mio background Scientifico Insomma I miei studi Io non Non li ho mai Dimenticati Anzi Anzi E quindi Questa cosa Mi piace tantissimo Insomma potete Se volete Consigliate da me E seguite personalmente Devo dire Che da quando Ho il gruppo Telegram Quindi con molte di voi Poi capita Di scriverci Anche in privato Questa cosa Mi appassiona Ancora di più Quindi a maggior ragione Mi fa piacere Ecco condividere questo Io capisco Chiara Quando dice Già la capivo Già in realtà Molto tempo fa Quando lei diceva Io non posso Non condividere L'entusiasmo Comunque Il fatto di trovarsi Bene con questi prodotti A me succedeva La stessa cosa Quando parlavo Della coppetta mestruale Perché quando Io provai Quella cosa lì Dicevo Ma è troppo Una figata Cioè È troppo Una svolta Per non Non parlarne Per non condividere La cosa Vi giuro Che mi capitava Di farlo anche In negozio Con clienti Che magari erano lì A comprare Gli assorbenti Vabbè per dire Insomma Quindi Io veramente Capisco Cosa intendeva Cosa intendeva Chiara In quel momento Lì Quindi Che dirvi Se volete Vi potete scrivere Trovate i contatti Qua sotto Ci aggiorniamo Se vi va Insomma Se volete Magari fra 14 giorni Con questo Sono curiosissima Questo ci vorrà Sicuramente un po' di più Per vedere Dei risultati Perché Insomma È già un po' più complicata E poi Ne parleremo anche Perché qua c'è una cosa Che Su cui io Ho qualche cosa da dire Però poi Ne parleremo Più in là E sicuramente Vi farò vedere Di questi prodotti Questo qua Non vi ho detto cos'è Questo è una figata Perché è un siero Di quelli liftanti Immediati In realtà In questo prodotto E in questo C'è Quello L'NTC Vabbè Come in tanti altri Ma sono i due prodotti In cui l'NTC È particolarmente visibile Perché Vi dà subito L'effetto immediato L'NTC Sarebbe Il Il trasporto Dei nutrienti Immediato Quindi dove Dove devono agire Io Questo prodotto L'ho già provato Su di me Si vede Ma Non è tantissima La differenza Cioè A livello Foto Video Ma Sto per andare Tra un'ora A trovare una mia amica Che invece Questo problema In me ce l'ha più visibile Quindi io spero Se riesco Se lei mi dà il consenso Anche ovviamente Far la foto E farvi vedere L'effetto di questo prodotto Poi tra l'altro Devo ancora provare Sul trucco Perché so che si può usare Sia sopra che sotto il trucco Quindi Per quello ci aggiorneremo Non vedo l'ora E poi vi faccio anche un video In cui magari provo con voi Gli altri prodotti che ho preso Tipo la maschera peeling Ho preso Anche le maschere Le hydrating shot mask E questa non l'ho ancora provata Perché voglio fare La first reaction shock Con voi E niente Io con questo Per il momento ho finito Ci vediamo Nel prossimo video E se volete Trovate il contatto qua Vi mando un bacione Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao